L'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Io li invito a venire a godere di qualcosa che il governo Berlusconi evidentemente non è riuscito a negare, cioè al sole, alla bellezza, ai 100.000 monumenti e chiese dell'Italia, ai 3.500 nostri musei, ai 2.500 siti archeologici, alle 40.000 case storiche dell'Italia che non siamo riusciti a distruggere in questi due anni. L'Italia è il paese che ha regalato al mondo il 50% dei beni artistici tutelati dall'UNESCO, più di 100.000 chiese monumenti, 40.000 dimore storiche, 3.500 musei, 2.500 siti archeologici e più di 1.000 teatri. Lo sapevi? Approfitta delle tue vacanze per scoprire l'Italia che ancora non conosci questa nostra magnifica Italia da scoprire e da amare.